salve a tutti oggi vorrei parlarvi come si costruisce un altare sciamanico un altare sciamanico aiuta a mantenere una connessione con gli spiriti alleati gli elementi e ci connette profondamente con la realtà spirituale l'altare o il rotolo di medicina da portare con voi deve contenere la rappresentazione dei cinque elementi una piuma può rappresentare l'aria come l'incenso le erbe aromatiche un cristallo può rappresentare il fuoco perché imprigiona la luce un legno bruciato porta il fuoco in sé impresso una conchiglia un ciotolo di fiume può rappresentare l'elemento acqua si può mettere dell'acqua in un vaso direttamente sull'altare la terra può essere messa in una ciotola direttamente sull'altare o rappresentata con pietre foglie secche pezzi di legno e ossa potete mettere sull'altare oggetti che trovate in natura oggetti costruiti per ospitare degli spiriti on gone o immagini e statue dei vostri animali di potere e alleati si possono costruire altari specifici per ogni elemento a seconda del rituale che stiamo compiendo un altare di fuoco può avere stoffe rosse e qualsiasi oggetto che ricordi l'energia del fuoco si possono aggiungere statue e foto dei defunti il fuoco rappresenta il sud e l'energia il fuoco è lo stato cui tutto fa ritorno pietre rosse candele accese un altare d'acqua utilizza invece i colori blu e bianco ciotole con acqua candele galleggianti blu o bianche foto di animali acquatici o divinità acquatiche conchiglie o pietre di fiume un altare di terra può prevedere la creazione di una collina di terra pietre piante che simboleggiano gli alberi possiamo usare il colore giallo si possono rappresentare dei simboli che rappresentino la madre o statue con divinità di fertilità e abbondanza oppure candele gialle un altare minerale per ricordare può essere creato costruendo una grotta di pietre può avere candele bianche pietre di varie forme colori cristalli e sale un altare per gli spiriti della natura può contenere fogliame rami appena colti candele verdi oggetti rinvenuti in natura e tanto altro per oggi termina qua vi aspetto con le prossime puntate vi ricordo di iscrivervi al canale solo ed esclusivamente contenuti gratuiti per tutti grazie alla prossima ciao ciao